E' uno dei colossi del settore dell'edilizia, la dodicesima azienda del paese. Certamente è la prima del mezzogiorno, ma per la catanese Tecnis, i guai sono cominciati lo scorso ottobre, quando sono finiti i domiciliari, i vertici dell'azienda travolti dal ciclone giudiziario degli appalti truccati dell'ANAS. Dall'ora è iniziata un'odissea scandita da proteste, sit-in e gli immancabili tavoli di concertazione. In azienda è arrivato un commissario anticorruzione per vigilare sul proseguo dei lavori, mentre il CDA la scorsa settimana ha ritirato il piano di ristrutturazione del debito, annunciando la presentazione di uno nuovo che potrebbe essere valutato già nel vertice in programma al mese venerdì prossimo, dove certamente approderà anche la nuova vicenda giudiziaria divampata stamani a Catania. Tecnis è finita sotto sequestro con la conseguente amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale Etneo. I sindacati hanno sempre chiesto chiarezza. Nella sola Sicilia l'indotto di aziende fornitrici è costituito da circa 900 piccole e medie imprese. Il danno sociale quindi sarebbe incalcolabile.